Da stamattina in piazza Sproni a Nuoro c'è un gruppo di quattro parcheggi a pagamento transennati e addobbati con festoni natalizi. Il transennamento è opera del comune di Nuoro che su quei parcheggi ha già posto le predisposizioni per l'installazione di due nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche. I festoni li hanno messi i cittadini che abitano e lavorano nel vicinato per celebrare ironicamente il regalo natalizio dell'amministrazione comunale che con questa nuova installazione, che si aggiunge alle due nuove colonnine in piazza Santa Maria della Neve riduce ulteriormente i già pochi parcheggi nel centro storico, una zona che peraltro soffre storicamente di carenza di parcheggi privati. Non crediamo che sia il posto adeguato dove fare un intervento come questo così impattante, così grosso rispetto alla dimensione anche di questo piccolo contesto che è la piazza dove noi possiamo parcheggiare e che ci salva, insomma, soprattutto la notte, il fine settimana quando i parcheggi a pagamento sono liberi. Un'iniziativa che lascia la mano in bocca nei cittadini del vicinato che nonostante la scelta consapevole di vivere nel centro storico per vitalizzarlo non si sentono adeguatamente sostenuti dal comune. Sosteniamo tutte le attività del centro, andiamo ad acquistare sempre nelle piccole attività del centro quindi abbiamo proprio sposato l'idea della vita in centro storico. I nostri figli giocano a Rosario, giocano in centro storico e quindi vogliamo stare qua, però fino a quando?